buongiorno a tutti ragazzi in questo video voglio mostrarvi il tipo di evoluzione che avrà questo trade che ho appena aperto aperto questa mattina adesso sono al pomeriggio è un trade come potete vedere sul cambio forex euro dollaro è stato aperto questa mattina aperto per vari motivi diciamo in linea di massima la price action su grafico weekly e daily è sicuramente interessante se vado sul grafico daily come possiamo notare eccolo qua quindi grafico settimanale la bussola del mio trading arriviamo da un movimento molto ampio verso l'alto e c'era stata appunto questa price action con falsa rottura dei minimi che aveva creato l'opportunità poi sul daily sono venute a creare in realtà alcune opportunità l'ultima presa è appunto questa qui quindi ieri aumento di volatilità inside di questa qui sul pavimento a 1.1830 1.1840 con vari spike che hanno mostrato swing soprattutto l'ultimo come si può notare con poi l'inside che si è venuta diciamo a creare con aumento di volatilità quindi praticamente è stato confermato diciamo il mio input la mio trigger la mia struttura sul weekly è quello che quindi ho poi posizionato uno stop loss direttamente sotto quel livello e ho un'area importante da seguire che sarà la zona qui 1.2040 ma l'idea è quella di accompagnare il prezzo più su prendendo il weekly si può notare come eccolo la l'idea è quella di andare verso questa zona praticamente l'area 1.2350 ad andare a prendere profitto rischio rendimento è quasi una 4 è sicuramente un bel trade interessante soprattutto perché arriva verso fine anno magari chissà si potrà anche incrementare non lo so al momento sono appena entrato lo vedremo poi durante le varie giornate vedremo un po che cosa che cosa verrà così vi faccio vedere l'evolversi di questo trade che a mio avviso è sicuramente molto interessante io a questo punto vi saluto ovviamente faccio un set forget adesso chiudo la piattaforma la dimentico fino a questa sera e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti buongiorno a tutti eccoci al terzo video di questa operazione che ho aperto sull'euro dollaro non lo so se sarà l'ultima operazione di quest'anno però sicuramente un'operazione che aveva tutte le caratteristiche come avete visto il mercato ieri è salito in modo notevole questo è il settimanale avevo comprato ovviamente come avete visto insomma per la struttura per tutto quello che abbiamo detto anche nel video precedente il mercato sta adesso spingendo molto quindi ho comprato in area 1.19 siamo praticamente a 1.21 quasi siamo quasi a 200 180 pips di profitto e l'idea sarebbe quella facendo molta attenzione a quest'area di cercare di portare l'euro dollaro più su zona 1.23 1.24 dove ho il target che pagherebbe molto bene circa un 1.4 con circa un 6% di rendimento sul portafoglio vediamo un pochino che cosa succederà comunque adesso ovviamente al momento lascio un pochino il mercato muoversi c'è stato aumento di volatilità proprio ieri un grande aumento di volatilità quindi mi aspetto anche un ritracciamento magari nelle prossime giornate però la posizione a mio avviso è molto molto buona poi con questo breakout che non avveniva da tempo perché siamo stati praticamente da metà quest'estate che non da agosto che non rompeva questi massimi veramente adesso rotti così in volatilità io credo che si possa tranquillamente andare più verso la parte alta 1.23 1.24 quindi cercherò di accompagnarla e vedremo un po' insomma comunque vi farò vedere un po' come la gestirò e come verrà conclusa l'operazione intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci arrivati a un altro video dell'operazione in atto euro dollaro che sta spingendo tantissimo dopo gli acquisti che ho fatto in area 1.19 e ancora adesso il mercato è veramente su stiamo a 21.63 quindi tantissimi punti stiamo a 260 circa punti di profit e un movimento veramente veramente molto molto importante adesso staremo a vedere un po' il da farsi perché un ritracciamento comunque me lo aspetto quindi adesso vedrò un po' cercherò di riflette sul da farsi comunque noi ci vediamo al prossimo video che vi dirò un po' che cosa sto facendo che cosa ho fatto a dopo al prossimo eccoci con l'evoluzione ancora del trade sull'euro dollaro sto registrando tutte queste parti nel mentre sto facendo questo trade proprio per farvi vedere un trade che ha un certo tipo di obiettivo di profitto circa 600 pips e è dentro da circa 12 giorni di mercato adesso stiamo vivendo un momento di ritracciamento nei prezzi diciamo che vorrei venisse mantenuta l'area tra 1.20 e 1.20 e 1.50 creasse uno swing e da lì magari potrei anche decidere di fare un incremento nel caso in cui il mercato mi dia la possibilità vedremo un po' che succede quindi sono disposto a vedere ancora i prezzi anche a fare un ritracciamento più intenso oppure staremo a vedere comunque la zona dove si è fermata è una zona importante questa 1.20 e 1.50 vedremo io non mi sono ancora in realtà spostato a break even sto mantenendo al momento la posizione in questo modo di base se ci farà uno swing chiaro probabilmente sposterò lo stop e lo sposterò a profitto quindi ci vediamo nei prossimi video per vedere un po' come continuerà questa operazione eccoci al sesto video di questa di questa operazione sull'euro dollaro lunedì mattina quindi mercati aperti da pochissimo e sul forex ovviamente la maggiore liquidità arriverà poi durante la settimana e soprattutto durante le sessioni europea e americana come potete vedere prendo un grafico giornaliero direttamente ecco qua e possiamo notare come si è creato un ritracciamento come dicevamo a questo punto il breakout di questo di questo ritracciamento mi porterebbe sicuramente a spostare il mio stop che al momento è ancora a 17.90 su questa zona lascerò un po' di margine ma mi sposterò all'intorno tra 1.20 e 40 1.20 e 36 35 questa zona qui quindi mi sposterò qui spostandomi qui andrò a bloccare in profitto la posizione di tra l'altro leggermente superiore di 1 a 1 nel blocco di profitto e per andare ripeto verso la zona precedente quindi continuiamo a vedere un po' come come sto gestendo questa operazione e ci vediamo al prossimo video buongiorno a tutti ragazzi eccoci a vedere l'evoluzione della posizione sull'euro dollaro su cui sono ancora dentro dal 25 di novembre oggi siamo esattamente al 17 di dicembre è una posizione dove ho spostato vedete lo stop a profitto nel momento in cui è stato breccato il punto di swing precedente quindi avevo uno stop sotto questi sotto questi livelli diciamo di swing proprio dove c'erano stati degli spike e adesso come vedete allora a parte che vabbè la posizione nel caso al momento possa girare in maniera così repentina mi andrebbe comunque a pagare però siamo vicino a un livello importante 22.50 dopodiché una volta che dovessimo capire che cosa succede su questa zona andremo a gestire ancora la cosa e per cercare ovviamente di portare l'euro nella zona target di medio periodo che è 1.24 per quanto mi riguarda 1.24 e 1.25 il mio target è 1.23.96 per essere esatti da 1.19 quindi diventerebbe sicuramente un bel trade da tanti punti e anche un bel trade da un punto di vista proprio didattico appunto da farvi vedere ecco perché l'avevo iniziato questo video perché sapevo che se la posizione avesse fatto i movimenti giusti sarebbe stato un ottimo video dal punto di vista didattico quindi adesso al momento tengo tutto ho, volevo mostrarvi, spostato comunque lo stop nel momento in cui è stato breccato lo swing di massimo e adesso valuteremo che cosa avviene e cosa farò appunto nei pressi di 22.50 ormai ci siamo quasi e quindi vedremo grazie e ci vediamo al prossimo video buongiorno a tutti ragazzi allora in questo caso andiamo avanti con la view dell'operazione che ho fatto sull'euro-dollaro eccoci qua, ciao a tutti in questo caso ho ulteriormente modificato lo stop e addirittura ho modificato leggermente anche il target in realtà allora guardate un po' che cosa è successo praticamente ieri mi ha fatto questa pin bar in trend molto bella alla rottura di questo massimo, cioè il massimo della pin, ho spostato al momento lo stop lievemente al di sotto di quest'area a 1.20.95 come punto chiave e in questo caso poi ho praticamente inserito il target a 24.50 quindi l'ho leggermente spostato sopra praticamente questi livelli quindi se vado a prendere eccolo qua questo per determinate strutture di volatilità che vanno a riportare i prezzi proprio tra 1.24 e 1.25 poi ovviamente valuterò a 1.24.50 nel caso un po' è da farsi però sicuramente interessante la situazione un trade a mio avviso a livello didattico molto molto interessante vedremo sempre cosa succederà poi nel prossimo futuro però insomma al momento la posizione è ancora a mercato oggi è il 22 di dicembre e io sono entrato il 25 di novembre su questa operazione quindi vedete l'evolversi della posizione bisogna essere molto prudenti, molto pazienti e gestire il tutto tramite gli swing bene, io intanto vi saluto vedremo un po' come continua l'operazione un saluto a tutti, ciao eccoci qui ragazzi questo è un ulteriore video della continuazione della posizione che ho in atto sull'euro-dollaro eravamo rimasti credo su questa zona sono passati altri giorni dal mio trade come potete ben vedere io ho un trade che è partito il 25 di novembre quindi potete ben capire non è facile tenere un trade così tanto tempo però l'impostazione che avevamo come già detto nelle scorse settimane era un'impostazione assolutamente long noi eravamo partiti da questa settimana questo è un settimanale e tutto fa presagire a un movimento ulteriore al rialzo tra l'altro volevo dirvi che ormai il target è a 1 è a portata a 1,24 e mezzo l'ho spostato dal primo target per alcuni studi che avevamo fatto in trading room col platinum e l'abbiamo messo a 24 e mezzo perfettamente quindi sicuramente un ottimo trade adesso staremo a vedere un po' che succede mi sono spostato ulteriormente appunto lo stop quindi ha un blocco profitti ancora più in alto nel caso in cui si dovesse scendere quindi è abbastanza tutto tutelato però ecco questo è quanto vedremo un po' cosa succede nei prossimi video e ci vediamo alla prossima buongiorno a tutti ragazzi eccoci arrivati con un nuovo video della posizione euro-dollaro in questo caso l'idea come si può notare è quella di provare un'uscita diciamo dal trade nel caso in cui ci saranno dei presupposti sul daily quindi sono dentro da qui si è creata una price action di ritracciamento sul grafico settimanale che è stata rotta adesso al ribasso quindi la mia idea è quella di valutare possibili swing low e da quel punto allora mi sposterò sotto quei minimi e valuterò poi una costruzione appunto nuovamente di una gestione dell'operazione così facendo salire diciamo lo stop nel caso in cui vado direttamente qui ovviamente sarei preso a stop profit ma anche nel caso in cui comunque ci sarà per esempio metti che qui mi faccia questo mi faccia uno swing e poi da qui riparta al ribasso faccia questo ecco che va il punto sposterei comunque lo stesso il mio stop poco sotto i minimi quindi cerco di gestirla in questo modo perché qui abbiamo un segnale short sul livello quindi non sono uscito subito aspetto di vedere il primo swing prima del mio stop profit per spostare nuovamente il mio stop ci vedremo quando ovviamente al prossimo video magari la posizione sarà chiusa vedremo va bene al prossimo ciao 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 ciao